Luca del bar Villa Clori, situazione difficile insomma un po' per tutti, si parla di nuove restrizioni in zona rossa, intanto vorrei partire da questo, un po' come una situazione per i locali bar del centro e non solo in generale. Certo, purtroppo il problema del covid esiste e bisogna affronteggiarlo, sicuramente noi ci dobbiamo stare attenti come siamo sempre stati e continuiamo a stare attenti perché il problema esiste veramente, cerchiamo di non far assemblare le persone, abbiamo messo il plastica, non facciamo entrare nessuno al locale e abbiamo preso tutte le precauzioni, ma adesso oltre a questo problema del covid ci dobbiamo affronteggiare il problema delle ordinanze regionali che ci vieda di assumere alcolici in strada. Ecco c'è questa novità dell'ordinanza regionale che sostanzialmente vieda il consumo della bevanda alcolica di fronte al bar, non analcolica però, quindi c'è questa distinzione. Hanno fatto questa distinzione da alcolico e non alcolico, ma l'analcolico si può bere lontano dai pressi del bar, lontano dalla pertinenza del bar, l'alcolico non è possibile consumarlo in area pubblica. Dunque noi ci vediamo un crollo ancora una volta dei nostri incassi perché noi siamo un locale, il 90% viviamo su un cocktail e su queste cose, stanno uccidendo la categoria perché noi abbiamo investito dei soldi su questi locali che loro chiamano Movida, per noi è pane, non è Movida. Premesso che i provvedimenti per quanto duri, se aiutano a limitare la diffusione del contagio, sono condivisibili, quello che non capiamo è la distinzione tra consumo dell'alcolico e consumo dell'analcolico. Sì, è questo che io vorrei porre una domanda, sto facendo il giro delle testate giornalistiche proprio per questo perché vorrei che arrivasse a qualcuno che mi spieghi il motivo. Può essere che l'alcol fa aggregazione? Sì, però lo fa anche l'alcol dei supermercati, non solo dei nostri bar, perché come abbiamo visto noi sabato c'era questa restrizione e sono successi fatti gravissimi. Perché si vedono ragazzini che non sono clientela nostra, perché vanno al supermercato e li comprano a prezzi ben minori. Ecco, il rischio è che comunque sia consumo resti magari non presso il bar, ma presso supermercati o venditori automatici. Certo, è questo il problema, che hanno solo spostato gli acquisti, non hanno risolto il problema, come si vede benissimo, si è visto questo fino a settimana passata, che la gente in centro c'era uguale e i ragazzini adesso hanno imparato ad andarsi a nascondere, dove purtroppo le forze dell'ordine non possono essere in tutti i punti della città, perché purtroppo sono abbastanza impegnati, noi capiamo lo sforzo loro, ma qualcuno dovrebbe capire anche lo sforzo nostro, le esigenze nostre. Quindi vi state organizzando per cercare di portare questo problema all'attenzione di cevi del questore, quindi state un po' organizzando tutti i locali e cosa chiederete? Io sto cercando, ora farò una raccolta firme per i locali, chi aderirà e porteremo questo problema anche in questura, perché noi siamo un locale lucido, trasparente, che non abbiamo niente da nascondere e vogliamo lavorare per portare il pane a casa. Abbiamo i bambini che stanno le famiglie dietro la movita, per tanti è semplice movita, tutti i ragazzacci, però la movita si può fare anche in modo diverso. Noi sabato abbiamo fatto una promozione, io sabato offrirò cocktail analcolici a chiunque venga in piazza e che lo vuole, si può rivolgere al bar in Villa Glori e verrà offerto un analcolico per far capire che la movita ci può essere anche in questo modo, perché non è la movita, non è alcol, la movita è gente che si diverte, gente che socializza, che adesso purtroppo non si può più fare e restrizioni sovra restrizioni ci stanno togliendo il nostro lavoro e il nostro pane. Io vorrei che qualcuno ci desse ascolto e riveda questa cosa, almeno adesso ci sarà forse un lockdown in fine settimana, siamo d'accordo, siamo in una pandemia, noi va bene lo accettiamo, ma almeno fateci lavorare durante la settimana. Il lavoro nostro è gli aperitivi, se ci togliete questo fateci chiudere e ci darete i ristori, non so come si può fare, ma un modo bisogna trovarlo. Grazie. Grazie. Grazie.